Abbiamo delle sarde impanate, si puliscono, va bene, puliamo e li apriamo, li apriamo poi un po', togliamo le spine più grosse, ecco, poi le mettiamo in questa carta assorbente, li asciughiamo bene e poi le mettiamo a bagno nell'uovo, allora abbiamo fatto un preparato di uova, due uova, del formaggio, prezzemolo, cipolla e aglio tritato e un po' di pepe, ecco. Qui c'è del pane grattugiato con un po' di formaggio e aggiungeremo soltanto dell'uvetta, dell'uvetta appassita. Allora abbiamo pulito le nostre sarde, le abbiamo aperte, abbiamo tolto la lisca, adesso le immergiamo nel l'uovo con il prezzemolo e tutto il resto, poi le passiamo nel pangrattato e il formaggio e poi le friggiamo, ecco, queste non sono le sarde alla beccafico, ma sono le sarde di tanino, sono fatte un po' diverse. Abbiamo messo anche un po' di uva, uva sultanina, un po' di uva secca, ma poca, pochissima. Ok, adesso le friggiamo e poi vi farò vedere il piatto finito.